Generi alimentari di vario tipo, è il bottino di due rapinatori che dopo aver rubato in un supermercato aquilano nella fuga hanno tentato di investire con la loro auto un poliziotto in servizio. Rapina che si è conclusa con gli arresti dei due, un 39enne e una 21enne di etnia Roma. Ad intervenire è stata la polizia stradale in collaborazione con la squadra volanti della Questura dell'Aquila. I due, dopo aver rubato all'interno del supermercato Tigre che si trova sulla statale 17 nei pressi dello svincolo autostradale dell'Aquila Ovest, sono fuggiti a piedi inseguiti dalla titolare del supermercato. Durante la fuga hanno spintonato più volte la donna e hanno minacciato anche un poliziotto che non era in servizio, che aveva tentato di fermarli. Con l'auto, che era già piena dell'aria furtiva, hanno poi tentato di investire un poliziotto in servizio che era giunto sul posto e anche la proprietaria del supermercato. In quel momento, però, una pattuglia della stradale è intervenuta passando casualmente sul posto e dopo è giunta in aiuto anche la volante della polizia. I due sono stati così bloccati e l'aria furtiva è stata recuperata. Erano già noti alle forze dell'ordine per rapina, resistenza e violenza pubblico ufficiale, lesioni, ricettazione e rifiuto di generalità.